Buongiorno compagni e compagnie. Parto intanto dall'ottima relazione di Alessandro che peraltro mi consente di superare più e pari tutta una serie di questioni e di punti che hanno già trovato spazio nella sua relazione. Peraltro l'analisi e l'elaborazione da lui prodotta è a mio avviso quanto mai necessaria per comprendere le origini di alcune delle cause e delle difficoltà che oggi il mondo del lavoro sta vivendo e per comprendere quale futuro e quali sfide stiano davanti a noi. Perché dopo le analisi si deve anche poi provare a dire cosa ci sia da fare per affrontare al meglio e per meglio intracciare tutte quelle trasformazioni che Alessandro ha predisposto nella sua relazione. Mi sembra anche poi di poter dire che la filea da questo punto di vista abbia tracciato una direzione, una linea. Ma è anche fuori di dubbio che la nostra organizzazione sindacale e più in generale il movimento sindacale non goda oggi di buona salute. E ci sia allora da chiedersi se il ruolo da noi esercitato rientri ancora nel novoro di quelle forze in grado ancora sostanzialmente di poter modificare in meglio il mondo del lavoro e assolvere alla nostra storica funzione di autorità salariale. Perché il cambio di paradigma a cui noi abbiamo assistito nel nostro Paese e direi forse non solo, sembra aver rafforzato quasi l'idea che la crescita delle protezioni dei lavoratori e delle fasce sociali più deboli raggiunte nei decenni precedenti abbiano prodotto quasi un livello di incompatibilità con la crescita economica. E da qui la necessità emersa in questi ultimi trent'anni di destrutturare quanto raggiunto in precedenza. Purtroppo anche da parte della sinistra che evidentemente ha perso i suoi punti di riferimento. E forse anche la capacità di un'elaborazione politico e culturale che non intriette tutti i concetti neoliberalisti. E a questo punto io penso che occorre prendere atto, a mio avviso, che la forza in grado di poter essere espressa dai sindacati dipende anche della qualità dei nostri interlocutori. E che seppur in difficoltà il sindacato, a seguito di tutti quei processi di indebolimento dei corpi intermedi a cui noi abbiamo assistito in questi anni, i medesimi processi si rilevano sì gravi per il sindacato e per i lavoratori, ma manifestano anche un'idea di sviluppo del mondo del lavoro di corto respiro, anche per le imprese e per la politica più in generale. Perché l'arretramento che noi abbiamo registrato in questi anni e in questi ultimi decenni certamente può essere funzionale a una politica economica e di sviluppo di breve periodo. Ma nel lungo periodo sta palesando gravi sofferenze nella coesione culturale e sociale del nostro Paese e anche nella qualità dello sviluppo economico prodotto e con una ridistribuzione sempre più iniqua. E questo congresso dunque, a differenza di quelli passati, io penso debba necessariamente essere un congresso di svolta per la nostra organizzazione sindacale, tanto più in una fase storica tra le più complesse. E penso anche che dalla conferenza di organizzazione si è pur deciso qualcosa, perché si è litigato, si è discusso per quelle decisioni, come in ugual misura in questo congresso si sono disposti dei documenti congressuali e l'esito dell'assemblea hanno espresso anche attraverso il voto una scelta e le scelte fatte devono determinare come poi si mettono in pratica tali decisioni e come si vincolano le stesse. Perché il sindacato deve avere la capacità di farsi anche interprete delle esigenze che emergono dal mondo del lavoro e dalla nostra società. Perché il tema delicato che attiene al cosiddetto mercato del lavoro e di tutti coloro che stanno in quelle imprese al di sotto dei 15 dipendenti o quelle micro imprese, i precari, quelli che vanno a termine, insomma quelli che conosciamo, dobbiamo pur dircelo che con gli strumenti attuali noi non ce la facciamo né a tutelarli in molti casi né a rappresentarli. E non bastano da questo punto di vista i soli servizi individuali a rispondere alle esigenze di cambiamento in atto. Perché forse è giunto il momento anche di sperimentare e provare a mettere al sistema le migliori esperienze e pratiche prodotte nelle varie categorie, come la nostra che mettiamo a disposizione già da tempo. E da questo punto di vista probabilmente anche noi ripercorriamo alcuni riflessi condizionati a volte, che abbiamo già visto all'interno della sinistra, dove non si discute del merito, cioè se quei lavoratori con questo sistema noi lo tuteliamo meglio o semplicemente peggio. E da questo punto di vista la luce della stagnazione salariale esistente e di tutti quegli elementi di sostenibilità sociale di cui avremo bisogno, ci sarebbe l'ulteriore necessità storica di un'unità di intenti sindacale vera, perché oggi più che nel recente passato gli interessi delle diverse strutture organizzative sindacali rimane per noi un tema delicato, perché le caratteristiche identitarie dei sindacati a mio avviso al loro interno stanno mutando, perché davanti a noi ci si collocano una serie di nodi cruciali che avrebbero bisogno di un'impostazione, di un pensiero e anche di un'azione sindacale veramente unitaria, perché nell'esigenza di accrescimento delle tutele, dei salari e delle pensioni e della stabilità dell'occupazione noi ci scontriamo con i particolarismi e con un equilibrio tra rivendicazione e democrazia che fa fatica a coniugare l'interesse generale con il particolare, la diversità con la solidarietà e perché la precarietà sempre più dirompente nella nostra società del lavoro e anche nella nostra vita accenta le disuguaglianze che incidono sia sui comportamenti ma anche sulle idee, perché la necessità di inquadrare le politiche dentro una visione complessiva in una congiuntura come quella odierna in cui esplodono quei particolarismi e prendono corpo i corporativismi diventa difficile da affrontare mantenendo tali spinte dentro un quadro di valori e coerenze più generali. Tuttavia per me è chiaro che non è inseguindole che noi risolveremo i nostri problemi, perché noi abbiamo valori e principi che stanno dentro una casa e allora ci si deve porre anche il tema delle alleanze, perché temo tanto che laddove qualcuno pensi che si può far da soli si rischi seriamente di andare a sbattere. Io non sono fra quelli che pensano che la destra e la sinistra siano uguali. Perché la forza di un sindacato la si misura, a mio avviso, soprattutto sulla capacità di chiudere buoni accordi, contratti o far recepire norme e leggi come fatto nel comparto delle costruzioni. Perché la capacità di mobilitazione è un fattore importante, ma da sola non basta. Perché le prove muscolari possono a volte riservire, ma servono ancora di più le decisioni politiche e serve schierarsi anche in quei territori come il Friuli Venezia Giulia, il profondo nord-est, dove parte della nostra base vive in una contraddizione profonda, dove magari si vota Meloni o Lega e ci si iscrive la CGL e noi questo lo dobbiamo affrontare. Concludo con un spaccato sulla mia regione, sul Friuli Venezia Giulia, che per una regione così piccola, che conta praticamente il stesso numero di abitanti della provincia di Brescia, noi dal PNRR erediteremo circa 1,3 miliardi, con il grosso distanziamento in infrastrutture e particolarmente coinvolto invece l'ambito portuale. Il porto di Trieste, solo fra PNRR e investimenti privati, nei prossimi cinque anni drenerà 2 miliardi. E quindi oggi, anche in Friuli Venezia Giulia, a seguito del congresso regionale della Fillea, si è aperto un tavolo tra parti sociali, tutte, in cui vi è un'idea di sistema di sviluppo dell'edilizia condivisa, a partire soprattutto dalle regole, con un'apertura direi inedita, ma tutta ancora da misurare nel merito, rispetto ad un contratto unico di settore dell'edilizia. Vi è anche poi il tema dei flussi della manodopera per una regione di confine come la nostra. Vi è una questione relativa alle predisposizioni di un osservatorio su base regionale dell'edilizia, di cui noi non siamo ancora adottati, e di una maggior sinergia tra CPT e gli spettorati del lavoro, e anche di una sinergia tra le casse edili presenti nella regione. Io penso che la via sia tracciata e si tratta naturalmente di percorrerla. Chiudo veramente con un auspicio, ma l'ho sentito ripreso in più interventi, ovvero che il tema della contrattazione territoriale e sociale diventi tema centrale per la nostra organizzazione, perché da sempre questo tema è stato lasciato alla sola Confederazione e allo SPI. Oggi ritengo che tale tema, che tiene dentro magari anche la questione della rigenerazione urbana e delle comunità energetiche e anche delle nuove povertà connesse all'energia, rappresentino per noi e per tutte le categorie un punto necessario di nuovo protagonismo sindacale, perché da qui passano tutti i temi epocali che stiamo vivendo. Chiudo veramente dicendo anche che a Trieste noi abbiamo percorso questo tipo di esperienza e siamo riusciti a mettere assieme più di 30 tra associazioni e partiti. E numerosi giovani hanno riguardato con interesse alla nostra organizzazione sindacale, alla CGL, ed hanno ancora voglia di impegnarsi e tra l'altro sono coscienti dei principi, dei valori che contraddistinguono la nostra organizzazione, a partire dalla pratica di quell'idea di solidarietà e di difesa dei diritti che ci unisce tutti. Io auguro a tutti quanti voi buon lavoro, compagni e compagni, ma in realtà non è un saluto, veramente spero che noi si riesca a realizzare un buon lavoro.